3, 2, 1... È la notte più importante della mia carriera. Tutta questa gente è arrivata da ogni parte del mondo solo per il piacere di essere qui. Non gettateli tanto per farlo, devono danzare nel vento come per magia. Accade solo una volta l'anno, alla vigilia del nuovo anno. Dove anche un momento di disperazione può diventare romantico. Lo scorso anno ho conosciuto una ragazza straordinaria. E stai per incontrarla, vero? Un proposito può diventare una rivelazione. La lista è lunga, meglio se cominci. I miei propositi per l'anno nuovo. Se mi aiuti, ti regalo questi. Quattro biglietti per la festa. Hai scelto il tipo giusto. E in una sola notte... Può cambiare tutto. No, no, no. Questo Rottam è morto. È fuori servizio. Come è custode? Fuori servizio anche lui. Salve New York! Stanotte andrò a Times Square. È molto improbabile. Ma ho 15 anni, mamma! Lo so. Questo non è un reggiseno finto. E qui non siamo ragazze selvagge. Il primo nato dell'anno vince 25.000 dollari. Oh, aspetta a parlare. Andiamo, tesoro. Non vincerà nessuno se resti qui. Proposito numero due. Colazione da Tiffany. Salute. Parlami. Parlagli. Perché? Per prenderti a schiaffi anche l'ultimo dell'anno. Sta solo facendo la cretina. Anche a me piace fare la cretina. Siamo arrivando! Siete pronti con le trombette? Cominciamo! È questo il capodanno? È questo. Dobbiamo fare qualcosa per tirarti fuori da questa depressione di fine anno. Organizziamola noi, la festa. Compri un pezzo di pizza e magari incontri la donna della tua vita. Chi bacerai a mezzanotte? Sai come si chiama questa cosa? Foglia totale? Pura casualità. Inizia a contare. Avremo più celebrità qui che nei centri di disintossicazione. Non sto nella pelle! Che te ne pare? Sei da sbando. E in questa notte magica ci sarà un'opportunità per fare di più, dare di più, amare di più. Questo succede a Capodanno. Questa è la vera festa. Buon anno a tutti! Niente batte New York a Capodanno.